progetto open farm ciao io sono desraele luigi ciao io sono luigi sono il fondatore appunto del progetto open farm che è una start up dedicata alla filiera agropecnica quindi allevatori mangimifici e gdo e quindi il consumatore finale che siete voi ho realizzato una scatola degli aromi dell'arba medica attraverso un percorso sensoriale dedicata agli allevatori e al consumatore per far capire cosa ha mangiato l'animale che è cibo di origine animale quindi latte carne e uova che poi voi vi troverete sul piatto ecco perché anche questa è eccellenza per il benessere